Il rapporto tra artista, curatore, storico è cambiato notevolmente. Ultimamente poi si parla di questa grande ingerenza del critico e del curatore a discapito quasi dell'autore. Questo è uno dei problemi che spesso vengono discussi, rilevati. In effetti è vero, premesso che tutto sommato queste figure ci sono sempre state, hanno sempre affiancato gli artisti, però forse un tempo erano più in ombra, erano un coadiuvante, erano un aiuto, nel senso che per un artista ovviamente dover lavorare, curare mostre e così via diventava oneroso come compito. Aveva bisogno di un supporto di queste figure che contribuissero così anche a scambi, legami. Ultimamente però penso davvero che ci sia stata questa, tra virgolette, sopraffazione di curatori rispetto agli artisti, che non sempre appunto è positivo a mio avviso. spesso addirittura è il curatore che parte da un'idea, da un progetto ed è lui che lo sottopone dagli artisti. Cioè andrebbe bene comunque, cioè voglio dire, coinvolgere artisti in un tema, in progetti, va benissimo. Però forse viene a mancare quella che è una certa libertà, tra virgolette, nel senso che o l'artista ha un certo peso e quindi riesce a far passare la propria idea, il proprio progetto, oppure spesso, tante volte, l'artista si trova quasi a elemosinare, oserei dire, uno spazio, un tempo, un momento. Non dico per essere visibile, nel senso che io sono una di quelli, ad esempio, che non cerco la gloria, la visibilità a tutti i costi. Il mio interesse primario è quello di elaborare un progetto, un'idea e di farla bene, quantomeno tentarci di fare il meglio. Per cui ecco, su questo discorso della visibilità non sono una che ama così andare avanti per gomitare, come spesso succede in tutti gli ambiti, ovviamente questo così. Però questa visibilità appunto degli artisti viene un po' meno, è il critico, è il curatore che poi promette e quindi magari l'artista a volte si trova anche in una contingenza di dover fare certe cose, perché deve comunque campare, per chi trae la propria sussistenza dal mondo dell'arte. Per cui spesso ci sono tutti questi compromessi, queste... Cioè, alla fine, la prima donna, mi si passi il termine, non è più l'artista, no? Perché deve esserci il nome eclatante, ecco, anche quello è un concetto che ho sempre cercato di combattere, no? Cioè, l'artista è l'uomo che attraverso il mezzo dell'arte, attraverso questo linguaggio va a migliorare quella che è migliorare, non solo migliorare, diciamo approfondire quella che è la vita, cioè... E questo è un po' il mio concetto di arte, no? L'arte è proprio questo linguaggio, come dicevo, è quasi come un lessico della vita, nel senso che va a estrapolare pensieri, situazioni, contingenze, situazioni storiche, anche politiche, sociali... e lui evidenzia non con i canoni comuni, non con i canoni, con il linguaggio comune di tutti, ma con un linguaggio che ha qualcosa in più e quindi dovrebbe stimolare quella che è il concetto di vita, delle energie della vita, delle cose da scoprire, da vedere, partendo sempre dalla tua interiorità, ecco. Grazie a tutti.